Il groove Body Amr per la primavera estate 2011 è tutto basato sul look delle top model degli anni 90. Forte, molto sexy, sprigiona sicurezza, è ardito e cool. Volevo creare un effetto simile a un turbante che rappresenti un po' le mie origini. Ci è venuta l'idea di acconciare i capelli in uno stile che le rispecchiasse. Cominciamo spruzzando il Look Lock Hair Spray su tutti i capelli. Lavoriamo su piccole sezioni, eseguendo una cotonatura disordinata. Poi prendiamo una piastra e quasi la strofiniamo sui capelli per creare una texture molto stressata. Questo serve a che le trecce non appaiano troppo pulite e strutturate. Così otterremo un look più grezzo, come se fosse vecchio di due giorni. Dopodiché pettiniamo il tutto con la spazzola Maison Pearson. Pieghiamo in giù la testa della modella e cominciamo a realizzare una treccia alla francese, partendo dalla nuca per arrivare sul davanti. Successivamente mettiamo una piccola fascia elastica sulle punte, ripiegando i capelli su se stessi per fare una specie di piccolo nodo, in modo da dare un po' più di volume. Completiamo con un po' di Look Lock Hair Spray e applichiamo del gel intorno all'attaccatura per dare un po' di effetto bagnato. iscriviti al nostro canale. Grazie a tutti.